Cosa succederebbe se le donne prendessero il potere? In una società sempre più piegata e piegata alla violenza sulle donne ho voluto scrivere una commedia per illustrare un mondo al contrario dove le donne conquistano l'agoniato potere però poi alle volte si rivelano anche peggio degli uomini perché l'essere umano o femminio è sempre uguale, la nostra natura è sempre uguale una commedia al teatro Colosseo di Bagliano nell'ambito della Campania Teatro Festival per sorridere con un po' di Shakespeare per ridere dei nostri difetti e per cercare di andare d'accordo Portantini, Ausiliari e Croce Rossini No, Croce Rossini, senza armi Ecco l'alza bandiera e il nuovo inno Meraviglioso Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia Meraviglioso Entrano i due protagonisti Io e il regista Meraviglioso Per respiro il tuo dolore Ti può sembrare poi Meraviglioso No, Croce Rossini, senza armi No, Croce Rossini, senza armi